Pronto? Ciao, c'è Anna? No, non c'è, è uscito con la mamma. Ma quindi sei solo? Eh, sì, sto da solo, è me. Mamma mia, che stai passando? No, è questo. Ma che fai, ci provi? Tu lo sai, chi sbagli non è me, che ti bella male? No, non c'è, è uscito con la mamma. 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 Grazie a tutti.